Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di un incidente avvenuto tra Montecatini e Pistoia si registra un chilometro di coda in direzione Firenze. La statale Trebis Tiberina si ricorda che è stato riaperto il viadotto Puleto ai soli veicoli leggeri, mentre per i mezzi pesanti restano attive le deviazioni verso le autostrade A1 e A14. Sulla statale 12 della Petrone del Brennero a causa di una frana è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano e sempre a causa di un movimento franoso anche sulla statale 64 Porrettana è chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra le località di Pavana e Ponte all'Aventurina in prossimità del confine con l'Emilia. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!